Questo verrà trasferito nel carcere di Milano o in quello di Parma? Sì, guardi, io sono per essere fermo nei confronti di chi ha commesso reati importanti e pericolosi come cospito. Credo anche nella rieducazione dei detenuti, perché il carcere deve servire a rieducare, a cercare di far sì che quando escono, per coloro che escono, riescano a reinserirsi all'interno della società. Però sul tema del 41 bis nei confronti di cospito siamo fermi nel mantenere quella posizione. Credo che i fenomeni di anarchia, anarchici che portano disordine all'interno del paese vadano fermati e combattuti, perché in questo momento serve sicurezza, serve ordine, serve lavoro e non servono invece anarchici che vanno in giro a devastare città. C'è un pericolo anarchia in Italia? No, un pericolo anarchia no, però ci sono dei gruppi di anarchici insurrezionalisti che esistono, che vanno monitorati e che vanno fermati laddove necessario.